All'odierna partito di campionato Allora pressano il portatore di palla avversario per non farlo ragionare Devono stare attenti però a non scoprirsi Grandissima occasione per lui E trova la conclusione a rete Parata nel portiere Si è mangiato un gol già fatto Fabio Calcio d'angolo per il Brasile Di testa e il portiere dice no I guai Si fa largo, fa il tiro e la palla finisce fuori Trova il compagno, grande opportunità Tira di testa, gol per il Brasile E la difesa avversaria ha lo suo volto qui Sì, lo hanno lasciato completamente libero Uno stacco imperioso di testa che non ha lasciato scampo al portiere Stesso palla, non è solo, hanno raggiunto i compagni al centro Palla che termina a fondo campo sarà rimessa Fato Raggiunge il compagno Soltanto il portiere da balla Cerca il gol Ed il pallone entra, gol E adesso sembrano inarrestabili Beppe Sì, hanno approfittato del passaggio a vuoto degli avversari Un tiro fulminante Ha trafitto il portiere infilando Cross in mezzo Si riprenderà con una rimessa dopo che la palla è carambolata sul corpo del giocatore Va di testa Grande delusione sul volto per questa occasione persa Un calcio d'angolo Percetta la palla Il Brasile usufruirà ora di un calcio d'angolo Tiro dalla bandierina Grande tiro Troppo centrale Il compagno ideale di ogni attaccante La difesa avversaria è messa male Possono... Ha spazio davanti a siena Prova a tirare in porta Hanno calciato a lato Avevano fatto tutto bene ma hanno sbagliato la parte di pari Ramirez Super difensori Potrebbe essere buona Tiro Si è riuscito ottimamente a neutralizzare la difesora Benzema Marcelo Gioco di passaggi Grandissima occasione Si fa sotto Di testa il pallone E avrebbe dovuto angolare di punti Ottima interrompere la giocata degli avversari Appoggia al compagno Ha spazio per tirare Ha calciato a lato Peccato Ha sprecato La formazione ospite sta per schierare in campo forze fresche Bel passaggio La difesa mostra qualche lacuna Palla al compagno Palla al compagno E Real Madrid fa gol Splendida Splendida davvero questa rete di Cristiano Ronaldo Sì una rete fantastica Raggiunge il compagno Può passarla Ci sono i compagni al centro Stiamo assistendo Una grande azione Tenta Sviluppano il gioco Manovra interrotta Manovra interrotta Fatto ci prova da lontano Incredibile Traverse Pallone ancora in gioco Scivolata Azione pericolosa del Brasile Azione interrotta Palla al compagno Ecco il tiro Niente da fare per lui Il quartiere non gli permette di segnare Passaggio riuscito Attenzione Caccia in porta Palla pericolosa Grande tiro Grande intervento Il Brasile usufruirà ora di un calcio d'angolo La colpisce di testa Ferma l'azione Ottantacinquesimo minuto Per ora stanno riuscendo ad amministrare il vantaggio Scarica sul compagno C'è il cross Massaggio troppo prevedibile Non riesce a bloccare Ancora pochi giri di orologio Non devono sprecare questa occasione Marcelo Ed è finita È finita Ok Oh 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 Oh